ragazzi abbiamo ufficialmente finito il videoclip grazie a tutti per il momento possiamo dire che è tutto la barca duro Luca allora ragazzi tra poco pioverà c'è il sole ma tra poco pioverà vi dico che pioverà se non ci credete fidate acqua bellissimo se d'estate era meglio però così pure divertente non ci ferma nessuno ragazzi fa freddo ma non ci ferma nessuno non ci ferma nessuno ma già bagnata non ci ferma nessuno notavamo che c'ha proprio il nome giusto che un cantante che si chiama Patrizio Canto è bellissimo sono insieme a fabrizio san rizio Luca Patrizio ma te lo vuoi imparare? Patrizio ho detto Patrizio non siamo a badà a Fabrizio il video di per sé è finito ma c'è un dietro il video di per sé è finito ma c'è un lavoro le quinte backstage che non vi dico ragazzi come ti dice in gergo l'acqua porta consiglio e a volte anche il raffreddore che sicuramente tra poco prenderò devo dire la verità mi hai sopportato e quindi sei quasi un santo ecco un santo potresti chiamarti così Patrizio Santo già mi chiamo così già ti chiami così vabbè ma non stabba dal capello proprio con me stabba dal capello dai ragazzi abbiamo ufficialmente finito il videoclip grazie a tutti grazie non ci ferma nessuno grazie a tutti grazie a tutti